Buona giornata, ben ritrovati, buon inizio di settimana con 7 in punto. La trasmissione di approfondimento che apre la giornata informativa di Telepadova 7 Gold. Anche quest'oggi un'ora di approfondimento che a differenza del solito non divideremo in due parti, o meglio due parti saranno lo stesso ma ci saranno quattro ospiti, due per ogni argomento. Vedete che ci sarà sicuramente spazio interessante per sapere qualcosina in più di alcune novità che stanno appunto nascendo in questi giorni. Siamo felici di dare il buongiorno intanto a Antonio Ceccagno, presidente dell'associazione Geos. Grazie, buona giornata. Buona giornata ben trovata, reduce da un fine settimana che è stato davvero impegnativo perché è iniziata la prima writing action del progetto Ahead. Andiamo più nel dettaglio a spiegare in pratica cosa è successo perché è un'iniziativa che sicuramente è destinata a dare molto più colore alla città di Padova. Sicuramente tra rumore e scalpore perché per la prima volta Padova ospita un'azione di writers sulle grandi pareti, le grandi pareti che altre città italiane da Bologna, Roma, Torino hanno già dato corso e oggi Padova si può allineare a queste grandi città perché potrà donare ai cittadini, a Padova stessa, delle bellissime opere d'arte. Ecco, parliamo da dove nasce tutto questo. In pratica siete un'associazione che mette insieme quella che è la forza di numerosi artisti con invece l'amministrazione pubblica. Avete favorito questo dialogo? Indubbiamente. Siamo un ottimo anello di raccordo tra un gruppo di artisti. Devo ricordare che l'associazione è stata costituita proprio da questi artisti nel ricordo di un writer, di un loro amico. E nasce questa operazione proprio perché la più famosa crew italiana, che si chiama EAD, è un gruppo considerato tra i più talentuosi che esistono nel territorio italiano e doveva finire così. Quindi con le istituzioni abbiamo creato un dialogo, un dialogo davvero convinto, che ci ha permesso attraverso l'assessorato al Verde, che ci ha permesso proprio di dire fateci fare qualcosa che sia un dono per la città. Ed è partito dal famoso cubo del Bassanello, che abbiamo realizzato sempre noi come associazione, grazie anche all'APS, e da lì abbiamo cominciato un lento dialogo che ci ha permesso di selezionare alcuni plessi, alcuni edifici che si prestano moltissimo a questa iniziativa. Lei è presidente dell'associazione GEOS, che era lo pseudonimo artistico di Giacomo, suo figlio. Sì, GEOS è il nome d'arte. Tutti gli artisti, i ragazzi, gli amici che hanno lavorato hanno il loro nome d'arte. GEOS, i ragazzi gli hanno dedicato una parete bellissima, che vi invito davvero ad andarla a vedere in via Vicenza. Che è questa nell'immagine? Ecco, ci sono le immagini che è la parete a supporto del cavalcavia di Chiesa Nuova, per intenderci. Sono 200 metri di parete, alta da 9 a 12 metri salendo, dove sono arrivati circa 40 artisti, dall'Europa anche, e sono venuti a lasciare il loro messaggio, i ricordi del loro amico. Ecco, questa è una delle pareti, perché questi artisti hanno molte pareti a Padova e siamo abituati a percorrere, a passare magari in certe zone della città e non notare le cose belle, le cose d'arte. Stiamo parlando di opere artistiche. Opere artistiche, questo appunto è un concetto che in qualche modo, per cui lo parlavo del dialogo con l'amministrazione pubblica, molto spesso non passa questo messaggio che sia arte. Beh, io credo che il dialogo con noi sia dato proprio sui temi dell'arte. Tutti gli altri temi legati a tanti imbrattamenti o cos'era, non ci riguardano, perché non siamo artisti, non sono artisti che fanno... Un artista della nostra associazione, ma comunque l'artista vero come questi, hanno un'etica che mai sporcherebbe un monumento o un edificio storico. Qui stiamo parlando proprio di espressione d'arte pura e viene fatta dove c'è, chiamiamola quella legalità, e quindi nasce anche da questo rapporto con le istituzioni. Ecco, non solo legalità, ma direi anche formazione a un certo punto di vista. Mi diceva appunto, stiamo parlando di Geos, del percorso anche proprio di studi. Il percorso di studi, che è anche comune a molti amici e artisti che stanno anche attualmente lavorando su questi edifici di Via Carraro. Il percorso di Giacomo, lo ricordo, è nato proprio dalle pareti, dai muri della città e poi si è laureato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, 110 Lode, quindi era un talento anche riconosciuto che stava crescendo ed emergendo. Già le gallerie d'arte avevano cominciato a notarlo e quindi a proporlo. Quindi è un percorso che può far emergere sicuramente anche dei grandi talenti, ce ne sono detto. Ecco, nel dettaglio poi dell'iniziativa iniziata in questo fine settimana, ne parleremo anche nella seconda parte con l'artista Medici 214, o 514. 514. 514. 514. Conuncierei esattamente. È corretto. Capire anche e soprattutto poi invece come, a cosa ci si possa anche ispirare, diciamo come obiettivo, oltre al fatto stesso di lanciare e di parlare di tutto questo, e anche avrete appunto degli obiettivi particolari che, come in questa iniziativa specifica, si stanno realizzando. Sì, sono gli scopi dell'associazione, che sono scopi che devono favorire l'arte, lo sviluppo, quindi una delle iniziative, oltre al ricordo, a mantenere viva l'intenzione artistica e il ricordo di Giacomo, l'associazione proprio promuove iniziative artistiche. E stiamo dialogando con diversi, anche altri comuni per iniziative che prenderanno poi seguito oltre a questa. Una tra le più recenti, tra le prossime, c'è a Banoterne, dove c'è addirittura una performance live fatta da alcuni artisti della nostra associazione e saranno tre sabato consecutivi, dal 19, quella prima di Pasqua, al sabato successivo, 26, fino al 3 di maggio. La vostra azione è quindi nell'area padovana. Chi volesse, diciamo, chiedervi anche informazioni o comunque associarsi forse invece di altre città, parliamo altri Veneto, ma voglio dire, al di fuori di Padova comunque, come può fare? Può fare. Noi abbiamo un sito che è l'associazione www.associazionegeus.it e lì si trovano tutti quanti riferimenti per iscriversi o per le iniziative, oltre al Facebook che oggi in tempo reale segue in maniera puntuale l'evento AED che è in corso. Quindi le iniziative con tutti gli artisti italiani sono ben accettate dall'associazione, e non solo italiane, noi anche. In Italia com'è la situazione complessivamente per i writers? Io ritengo che sia molto, sta cavalcando un momento molto interessante perché si sta parlando e poi magari sarà molto capace a spiegare bene Made 5, 4, quanto sta lievitando, ma si sta guardando quest'arte nel suo vero aspetto, cioè quello artistico, quello che è l'evoluzione. E stiamo parlando di writing, non stiamo parlando di street art, quindi è tutta una manifestazione artistica globale, mondiale, e tra l'altro che comincia ad avere anche un peso economico e sta per entrare nel mondo dell'arte a tutti gli effetti. Spieghiamolo per chi ascolta la differenza tra writing e street art. Partono da graffitismo, che è una manifestazione, io dico, sociale, culturale, artistica, in scala mondiale. E il writing è una parte di questo, il writing è la parte, quella del lettering, della lettera. La street art è figurativa, ecco, la faccio molto tanto per dare un messaggio così, capire esattamente. Il writing dà modo all'artista di sviluppare la lettera attraverso studio, approfondimento, quindi ci sono artisti, tra l'altro fanno parte anche del nostro gruppo, che sono stati in Giappone a studiare le lettere, e quindi c'è un approfondimento davvero molto pesante, molto notevole per arrivare a definire con stili sempre più personali il proprio nome, la propria lettera. Il famoso nickname o tag che si voglia definire per renderla immediata, come Made, come Orion, come Yama, come Joyce, che sono, e come Axe, che sono gli artisti che stanno facendo oggi il progetto AED. Di cui appunto vedremo poi dettagli ancora maggiori. Completando il quadro, dicevamo, d'orizzonte, all'estero ci sono degli esempi importanti, che sarebbe bello anche poter importare in qualche modo, secondo voi? Indubbiamente, all'estero credo sia un punto di riferimento per gli artisti italiani da sempre. Le città importanti sono Berlino, sono Parigi, internazionali, altre città le troviamo al di fuori, anche in Argentina, piuttosto a Buenos Aires, piuttosto che in Brasile. Solo i punti di riferimento sono quelli che i nostri writers italiani hanno un po' copiato, seguito. Ecco, devo dire che la capacità e l'abilità degli artisti italiani è comunque riconosciuto in campo mondiale. E quello è importante. In Italia invece, come è l'attenzione? Made 514 è un artista mondiale. Lui proprio in tutti, credo, abbia girato da New York in poi in tutti i paesi del mondo e lui è lasciato ed è riconosciuto come un artista di grosso livello. Padova può vantare di avere questo gruppo talentuoso, davvero è una cosa che deve, credo che anche l'operazione AED che stiamo facendo possa dare visibilità a questi artisti che spesso in Italia sono poco riconosciuti e che invece quando escono dai confini italiani si sentono artisti veri. Ecco, c'è questa certificazione che da noi... Che da noi forse oggi è ancora mai, speriamo di rafforzare. Stanno migliorando i tempi, diciamo. Stanno migliorando, speriamo. Anche queste iniziative hanno grosso... Proprio questo. Ritiene che a Padova, rispetto ad altre città, ci sia stata maggiore facilità nel poter proporre un'iniziativa di questo tipo? Io penso di sì, perché Padova ha avuto da sempre un ottimo rapporto con una criustorica, che è l'EAD, ha avuto un ottimo rapporto nella città, salvo recentemente nel... Forse conforme, non dico repressive, ma conforme un po' di preoccupazione, si sia creato qualcosa che forse è poco piaciuta. Spostiamo, io dico, l'attenzione al mondo dell'arte e certe stradine, certe views che molte volte sono sporche e sono magari imbrattate, per così dire, ma io trovo che siano anche sporche di per sé per loro, se vengono date ad associazioni, a gruppi di artisti, probabilmente le potremo abbellire e far diventare dei percorsi pedonabili, forse più belli di quelli che oggi lo sono. Ulteriore. Una domanda che trovo necessaria da questo punto di vista per capire anche chi bisogna in qualche modo svegliare, diciamo, come coscienza. I genitori, per esempio, capiscono molto spesso qual è, diciamo, lo spirito artistico dei figli o... A me ha meravigliato, perché come associazione, tra l'altro andremo anche a parlare nelle scuole, negli istituti d'arte, ci ha chiamato l'istituto selvatico d'arte, quindi ci fa molto piacere, ma quindi ci sono gli insegnanti che stanno proprio educando gli allievi su questo tipo di analisi di questo percorso artistico. Però mi ha colpito, nelle chiacchierate anche davanti a questi muri, di molti genitori con bambini anche piccoli che gli stanno facendo apprezzare la parte bella artistica e quindi non la stanno spiegando come un imbrattamento di un muro. La parete, il muro è una tela, lo può diventare, può diventare una bellissima tela e poter dare gratuitamente, io dico, alla città e quindi agli altri un tocco d'arte che può essere molto ben compreso ed evidenziato. Manca circa 30 secondi ai nostri saluti. Quello che ha appena detto era sostanzialmente anche un possibile messaggio, chiamiamolo elettorale, in ogni caso, che potesse fare un po' un manifesto dell'iniziativa. Un altro concetto, secondo me, importante? Io colgo il nome che si chiama AED, è il nome del progetto, vuol dire davanti. Io mi auguro che sia avanti come il primo inizio per Padova e quindi anche alle amministrazioni comunali di poter pensare che si può riqualificare dell'ambiente attraverso il writing. Grazie dunque Antonio Ceccagno, Presidente dell'Associazione GEOS e tra poco la seconda parte di questa nostra chiacchierata su e-writers e la città con l'artista Made 594. Tra poco.